Ciao a tutti, in questo video voglio parlarvi di tutto ciò che riguarda il Betta Splendence, o meglio conosciuto come pesce combattente. Per una visione più confortevole, dividerò il video in diversi capitoli. Quindi mettetevi comodi e a fine video avrete una conoscenza totale su come allevare e tenere al meglio questo pesce nel vostro acquario. Non mi resta che augurarvi una buona visione. Capitolo 1. Il Betta e Iannabantoidei Il Betta Splendence, anche conosciuto come pesce combattente, appartiene al sottordine degli Iannabantoidei, di cui appartengono moltissime altre specie molto diffuse e conosciute negli acquari di acqua dolce, come ad esempio i gurami oppure i pesci del paradiso. Questi pesci infatti hanno tutte caratteristiche comuni, ma soprattutto uniche della loro specie. Infatti questi sono gli unici pesci dotati di labirinto, ovvero un apparato respiratorio particolare che permette loro di respirare l'aria ambiente, quindi l'aria atmosferica di superficie. Anche il loro modo di riprodursi è unico perché sono tutti costruttori del nido di bolle, ma tutte queste particolarità le vedremo dettagliatamente nei capitoli successivi. Capitolo 2. Vasca e allestimento ideale Il Beta ha come habitat naturale acque stagnanti o comunque acque ferme e basse di risai o canali del sud-est asiatico. L'acquario ideale per il Beta Splendence prevede pertanto spazi ristretti e fittamente piantumati, nonché acque tendenzialmente ferme e poco movimentate. Il Beta Splendence predilige e si trova a proprio agio i spazi angusti con bassa colonna d'acqua, che non superi i 15-20 cm di altezza massima. Un'altra caratteristica è la presenza di molte barriere visive e una bassa luce che arrivi sul fondo. A questo scopo avremo sia piante dal fondo, muschi, ma soprattutto la presenza di piante galeggianti. Il tutto può essere decorato e arricchito con legni e radici legnose, oppure con radici provenienti da piante emerse, come ad esempio potos in immersione o felci acquatiche. L'acquario può essere esteso in lunghezza, ma deve essere basso. La forma ideale pertanto è un parallelepipeto. Da evitare sicuramente vasche con rapporto alterato, come ad esempio cubi o sfere. Preferite un piccolo acquario a parallelepipeto. Per quanto riguarda il litraggio ci sono delle regole. Sicuramente si consiglia un massimo di 30 litri, perché acquari più grandi sicuramente avranno una colonna d'acqua troppo alta per il Betta Splendence. Potete usare vasche più grandi, ma andranno riempite meno, per avere comunque una colonna d'acqua bassa. È possibile, anzi consigliato, mettere il Betta in litraggi ancora più bassi, come per esempio 10 o 20 litri. Anzi, questo sarebbe addirittura da preferire ai 30 litri. In alcune regioni italiane esiste però una legge in vigore che vieta l'introduzione di pesce al di sotto di 30 litri. O meglio, la legge dice che ci vogliono almeno 2 litri d'acqua per centimetro complessivo di animale, ma comunque qualsiasi animale messo non deve stare sotto i 30 litri. C'è da dire che questa legge non tiene assolutamente conto delle specifiche esigenze di ogni specie ittica. Infatti mettere un Betta Splendence in 30 litri non è certo come mettere un piccolo pesce rosso delle stesse dimensioni sempre in 30 litri. Sono situazioni completamente differenti. Tuttavia, se volete stare tranquilli, 30 litri sono perfetti. Per quanto riguarda un'altra fondamentale caratteristica di un acquario dedicato a Betta Splendence è la copertura con un coperchio. La vasca deve necessariamente essere chiusa. Non è possibile mettere vasche aperte. Avevo parlato prima di una caratteristica unica degli Anabantidei, ovvero della possibilità di respirare l'aria ambiente, quindi l'aria atmosferica in superficie, grazie al labirinto, un organo speciale. Considerate che il Betta praticamente le branchie non le usa. Sono soltanto dei residui che utilizza da adulto per la sfida e per espanderle durante l'atteggiamento di sfida. Normalmente lui respira l'aria ambiente e quindi l'aria atmosferica tramite il labirinto. Noterete infatti il Betta prendere molto spesso delle boccate in superficie. Sono semplicemente i suoi atti respiratori. Quindi perché l'acquario va coperto? Perché deve preservare calore e umidità. L'aria che deve entrare nel labirinto deve essere necessariamente calda e umida. O almeno non ci devono essere discrepanze di temperatura tra l'aria di superficie e l'acqua. La copertura di superficie quindi permetterà questa caratteristica dell'aria. Cosa succederebbe se il Betta dovesse respirare a lungo andare l'aria fredda e secca? Potrebbe a lungo andare infiammarsi il labirinto e portare a morte il Betta. Un altro motivo importante per cui la vasca va coperta è che il Betta ha sviluppato una muscolatura tale da saltare da una pozza all'altra nei momenti di siccità in natura. Quindi avrà l'istinto a saltare e quindi uscire fuori dalla vasca. Chiudere adeguatamente una vasca impedirà al Betta di saltare in mezzo al salotto o al centro della stanza. Per quanto riguarda il sistema di filtrazione va bene qualsiasi sistema purché l'acqua non sia troppo turbolenta e non ci sia un moto violento dell'acqua. Capitolo 3. Valori e temperatura. Il Betta vive normalmente in pozze e acque stagnanti. Durante la stagione piovosa queste pozze vengono riempite da acqua piovana. L'acqua piovana ha la caratteristica di essere super tenera e super acida. Di conseguenza l'acqua ideale per ospitare un Betta Splendence dovrà essere tenera e acida. Usare soltanto acqua di rubinetto per definizione basica e dura porterà sicuramente a lungo andare a morte il Betta. Per ospitare un Betta dovrete utilizzare sicuramente dell'acqua di osmosi e sicuramente evitare l'utilizzo di qualsiasi elemento calcareo in vasca. Il Betta però è estremamente tollerante a qualsiasi range di valori ma la sua condizione ideale vede questi valori di KH ideali e un pH tendenzialmente acido. Se è e mezzo va bene. Il KH basso serve sicuramente per aiutare e facilitare l'acidificazione dell'acqua. Il KH infatti svolge un potere tampone nei confronti di acidi o basi deboli. Quindi per avere un pH più facilmente acido bisogna avere valori di KH bassi. Come fonte di acidi deboli è possibile utilizzare pignette di ontano o foglie di catappa. Liberano infatti tannini e acidi umici che permettono di acidificare l'acqua. Di solito le inserisco direttamente in vasca ma è possibile anche prepararne un estratto. Tutti questi tannini e acidi umici conferiranno una certa ambratura dell'acqua. Hanno anche un certo potere antimicotico e antibatterico. Migliorano la salute del Betta dal punto di vista del sistema immunitario. In causa di piccoli traumi o graffi aiutano la cicatrizzazione. Per quanto riguarda la temperatura è possibile utilizzare un termoriscaldatore con termostato e impostarlo durante l'inverno sui 23-24 gradi. Con l'arrivo dell'estate non c'è bisogno ovviamente di termostato perché la temperatura raggiungerà valori più alti e questo conferirà anche una certa stagionalità alla vasca. Capitolo 4 Dieta Per quanto il Betta Splendence sia un animale estremamente resistente a diverse situazioni è al contrario molto poco tollerante a diete sbagliate. Il Betta infatti ha uno stomaco molto piccolo e un eccesso di cibo può causare obesità e molto frequentemente anche blocchi intestinali. La dieta ideale del Betta Splendence deve prevedere poco cibo, molto vario e poco grasso. Cerchete in ogni caso di evitare il cibo secco. Il cibo secco infatti può una volta entrato nello stomaco grazie all'acqua aumentare di volume e quindi gonfiarsi all'interno dello stomaco del Betta. Personalmente somministro il cibo secco massimo una volta a settimana. Per la maggior parte del tempo somministro o cibo decongelato oppure il cibo vivo. Da questo punto di vista abbiamo una vasta scelta. Anche nella scelta del cibo vivo o il cibo decongelato è sempre meglio scegliere un cibo con poca percentuale di grassi. A volte può essere proprio l'eccesso di grasso, quindi la viscosità dei grassi a dare un problema intestinali. Ad esempio un alimento molto ricco di grassi, vivo, è il Tubifex che io personalmente non utilizzo. Come cibo congelato da conservare in freezer utilizzo i Bloodworms ovvero i Kino Nomus con cui mi trovo molto bene. Questi li somministro circa due volte a settimana e sono molto comodi e veloci da somministrare. Do al Betta un paio di vermetti alla volta. Il cibo congelato lo trovate tranquillamente nei vari negozi di acquari che hanno anche un reparto freezer. Esistono poi tantissime alternative di vivo come per esempio la più facile da trovare, l'artemia salina o anche le anguillole dell'aceto o la dafnia. Sono tutte cibo vivo allevabile in casa. Il più facilmente reperibile è sicuramente l'artemia salina. L'artemia salina può essere somministrata anche se di solito si dà in aupli. Io personalmente la do al Betta molto spesso, però bisogna stare molto attenti a non somministrare anche i gusci. I naupli di artemia salina appena schiusa sono infatti perfetti e nutrienti, ma c'è questo piccolo problema dei gusci che se somministrati possono causare frequenti blocchi intestinali perché estremamente indigeribili. Ho pubblicato però un video in cui spiego come cercare di evitare la somministrazione anche dei gusci. L'alternativa dell'utilizzo dell'artemia salina è quella di usare invece una forma già decapsulata, però si tratta non più di cibo vivo ma semplicemente di cibo già pronto, già preparato. Insomma avete una vastissima scelta di alimenti, ma la cosa importante è che la dieta sia estremamente varia. Vi metto qui un esempio di dieta che eseguo io settimanale. 3 volte a settimana cibo vivo, 2-3 volte a settimana cibo decongelato, è consigliato un giorno a settimana di digiuno completo. Questo perché, a quanto dicono, migliora la motilità intestinale del Betta Splendence. Sicuramente un giorno di digiuno non può fargli altro che bene. Il digiuno non è necessario, potete anche non farlo. Magari lo fate il giorno successivo a una volta che avete per sbaglio dato, per esempio, cibo in eccesso e quindi potete metterlo a stecchetto il giorno seguente, ma non è una regola fissa. Capitolo 5. Convivenze Dovendo mettere il Betta Splendence in acquarie e vasche così piccole, di conseguenza avremo una scelta limitata di conviventi. Si sente parlare a volte di possibilità di convivenza tra un maschio e una femmina, o addirittura due femmine e un maschio. In realtà, questa è una cosa che riserverei alla pura riproduzione. Il Betta Splendence è pur sempre molto territoriale e quindi, dopo aver creato il nido di bolle, aver posto le uova all'interno, diventa estremamente aggressivo e può anche uccidere le femmine di Betta. Quindi la loro introduzione in vasca insieme al maschio la limiterei soltanto all'atto di riproduzione. Per quanto riguarda altri tipi di conviventi, in realtà siamo limitati perché la vasca è comunque molto piccola per ospitare anche specie abbastanza tranquille e pacifiche. Di solito sono consigliati i pancio, ma anche questi vogliono stare in banchi numerosi e quindi 30 litri, 20 litri a maggior ragione sono veramente troppo pochi. La verità è che se il Betta viene messo in una vasca, così come vi ho spiegato, da solo ci sta proprio bene e non può stare meglio. La verità è che il Betta da solo sta proprio bene e non vuole altri conviventi. Ah, ovviamente sarà scontato, ma ve lo dico, non vanno messi due maschi insieme. È chiamato pesci combattente e ci sarà un motivo. Per quanto riguarda gli invertebrati, la convivenza con chioccioline e lumachine acquatiche di vario tipo è possibilissima. Per quanto riguarda le caridine, è possibile metterle insieme. Le adulte sicuramente non subiranno attacchi, non ho mai notato interesse da parte del Betta nei confronti di caridine adulte. Però non c'è la certezza che le bevi caridine, quindi le figlie, possano essere predate dal Betta che può usarle e vederle come cibo vivo. Quindi comunque, se potete, evitate la convivenza. Capitolo 6. Riproduzione Il Betta Splendence, così come tutti i gurami o i pesci del paradiso appartenenti alla stessa grande famiglia, sono tutti anabanduidei e condividono questa caratteristica, ovvero sono costruttori del nido di bolle. Tutte le varie specie hanno in comune questo comportamento tipico della riproduzione, che differiscono anche se di poco tra di loro. Abbiamo qui il nostro acquario con delle piante galleggianti. Il Betta Splendence, non necessariamente in presenza di una femmina, ma anche da solo, spontaneamente, può costruire un nido di bolle. Il nido di bolle è altrone che in un ammasso di acqua e saliva, caratterizzato da bolle, molto solido e di solito costruito a ridosso di piante galleggianti o annessi dell'acquario o addirittura alle pareti della vasca. La costruzione del nido di bolle avviene anche in solitaria, senza bisogno di femmine, come dicevo, e molte volte lo fa come una sorta di marcatura del territorio. Ai fini della riproduzione, gli allevatori, per stimolare comunque il Betta a costruire subito un nido di bolle, fanno notare la presenza della femmina al maschio. Di solito, per fare ciò, si fa vedere al maschio una femmina protetta da un contenitore trasparente, in modo da evitare eventuali attacchi, o per vedere semplicemente la reazione del maschio, alla vista di una femmina. Se la femmina è pronta a espellere le uova, è possibile metterla libera in vasca. A questo punto, il maschio tenderà con il classico abbraccio a stimolare la fuoriuscita delle uova e a fecondarle. Le uova che tendono a cadere sul fondo vengono rapidamente prese dal maschio e inserite nel nido di bolle. L'abbraccio può avvenire anche più e più volte, a seconda delle uova che ha la femmina. A questo punto, il betta maschio si metterà a guardia del nido e diventerà estremamente aggressivo con qualsiasi altro essere vivente che si avvicini al nido. Questo è il momento di rimuovere la femmina dalla vasca. Lasciare la femmina in vasca potrebbe voler dire condannarla a morte. Il maschio gestirà il nido, recuperando le uova che cadono sul fondo e mangiando quelle non fecondate perché potrebbero marcire, produrre muffa e intaccare le uova sane. Una volta avvenuta la schiusa, i piccoli avanotti avranno un nuoto verticale a causa del sacco vitellino. Dopodiché assorbito il sacco, modificheranno il loro nuoto e potranno non essere più riconosciuti dal betta maschio, che quindi potrebbe predarli. E questo è il momento di rimuovere anche il betta maschio dalla vasca e passare alla gestione completa degli avanotti, a cui dedicherei però un video a parte. Capitolo 7. Varietà. I betta che vediamo sono tutte selezioni effettuate dall'uomo negli anni. Il tipo di betta che più si avvicina come forma alla tipologia selvatica è il betta placat. Per i colori però ovviamente abbiamo le varie selezioni dell'uomo, ma come forma è molto simile. Esistono poi tantissime varietà del pinnaggio, come il butterfly, il comte e il delta e il veiltail. Probabilmente il veiltail è più frequente in assoluto. Abbiamo comunque una vastissima scelta e in base alla tipologia del betta avremo un betta che può costare da pochi euro a diverse decine di euro. Avete comunque veramente una scelta infinita. bene, a questo punto penso di avervi detto tutto, ma proprio tutto, quello che riguarda questo splendido animale, il betta splendens. Se volete farlo riprodurre però dovete preparare diverse vasche e dedicherei un video a parte per quanto riguarda la riproduzione. Per quanto riguarda il betta adulto singolo è possibile seguire questi piccoli consigli e tenerlo al meglio. Ricordatevi che il pesce è considerabile come un qualsiasi animale domestico, quindi nel momento in cui lo acquistate dovete avere tutte le cure e le attenzioni per tenerlo al meglio. Io spero che questa guida vi sia stata utile e come sempre vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti! Grazie a tutti!